buongiorno a tutte amigazze mie qui da lecce calimera la francusa voce faccio vedere come stefano le fighe essiccate io prima le ho tagliate adesso sono già lasciate 3 4 giorni vedete l'ho già fatta essiccare buone buone poi che cosa ho fatto prendo il limone il limone lo grattugiamo un poco dopo averli chiusi così la buccia la scorza del limone così da bello profumazzo profumazzo e i semi di finocchio così mettiamo sopra ok io poi gli ho dato pure la spolverata qua di finocchio quindi ho usato metà e mandorle metà noci quindi vi faccio vedere poi se volete la ricetta completa andate iscrivetevi sulla mia pagina youtube francusa bortone e vedete tutte le mie bonazze ricette tipiche salentine per chi non lo sapesse io ve lo sto dicendo qua su tiktok poi quanto riguarda questi qua poi accendete il forno a 180 gradi e le lasciamo per 20 minuti perché attenzione qui siete accasciati con i girati eh non ci muscerrare che sta non c'è lo forno va bene parlo un dialetto l'eccesa qualche amica mia dice francusa fanno in un bello video parla dialetto l'eccesa ogni tanto mi capita va bene allora per tutte quelle signore che mi criticano no se face così se mette una cipurda una mette cebole o la cipurda o la i un cialupur pala luciana io lo so che non era così il pala luciana ma ve lo sto dicendo io l'ho già fatto perché tiktok non ti dà il tempo di spiegare tutto comunque se voi volete vedere le mie ricette complete o andate sulla pagina facebook la cucina di francuso e vi iscrivete oppure ho un canale su youtube che ci sono tutte le ricette mie va bene tutte scrivetevi iscrivetevi francusa bortone ok su youtube invece su facebook andate sulla mia pagina la cucina di francusa ci sono tutte le mie ricette quindi iscrivetevi e vi guardatevi tutte le ricette caso buone facili facili va bene e vedete tutte le mie ricette passo dopo passo ok belle criticone simpaticazze mie ci vogliono le critiche comunque ognuno poi cucina come meglio crede io voglio salutare la signora mamma mia mi facci morire mamma mia ma fregatene perché comunque sei simpaticissima signora a ischia a giuventi mi trovo a ischia e tu vieni nel salento a trovarmi eh perché sei troppo simpatica un bacione a tutti amiche mie ciao dalla vostra francusa